Hanno manifestato anche a Caltanissetta gli insegnanti e il personale scolastico che è aderito allo sciopero della scuola del 30 maggio con un sit-in davanti alla prefettura. Le motivazioni che hanno mosso la protesta riguardano alcuni punti del decreto legge 36 del 2022. Al centro della questione il reclutamento, la formazione, le risorse per il contratto e precari, così come si legge nella stessa locandina che annunciava l'appuntamento nisseno di inizio settimana e che ha visto coinvolti i sindacati FLC, CGL, CISL, SCUOLA, WIL, SCUOLA, SNALS, COMF, SALGIL, DAUNAMS. Scioperiamo in difesa della scuola della Costituzione. Questo è infatti il titolo del comunicato del docente Leandro Ianni, che elenca i tre motivi per i quali, scrive, chi lavora nella scuola pubblica italiana sente il bisogno di esercitare il diritto allo sciopero.